Tempo fa vi ho mostrato una build, interamente basata su componenti Asus Pro Art, perché effettivamente al CS mi ero in particolare innamorato del loro nuovo case di dimensioni veramente gigantesche, ma soprattutto con un numero di caratteristiche speciali particolarmente alto, molto sopra la media del mercato e soprattutto del tutto esente da RGB. Una cosa veramente fantastica per il 2024 perché effettivamente moltissimi case basano la propria estetica solo su quello, ed è un peccato perché effettivamente quelli che poi non lo fanno, come per esempio quello che abbiamo visto da poco, il Lea Lee A3 Micro ATX, magari si perdono un pochettino nell'estetica interna per via ovviamente di limitazioni strutturali. Questa build invece alla fine era venuta veramente molto bella e ho visto che l'avete apprezzata. Nel video di oggi cosa andiamo a fare? Semplicemente la aggiorniamo, perché se vi ricordate proprio in quel video vi avevo detto, se fosse stata AMD effettivamente l'avrei utilizzata, perché alla fine Intel 13000 e 14000 che monto alla fine sulla build per ora, non sono poi un upgrade così grande dal mio PC da editing invece lì dietro con un 12900K, alla fine sì qualcosina cambia ma non tanto. Quindi nel video di oggi facciamo un bel trapianto di scheda madre e andremo a utilizzare questa, che è una X870E Pro Art, che oltretutto abbiamo visto alla Gamescom insieme, vi ho già fatto vedere un po' di caratteristiche, ma adesso le rivediamo bene in studio per capire bene che cosa comporta come upgrade. Ok, direi di partire proprio da lei. Allora, qui abbiamo la nostra scheda madre. Molto, molto belle le Pro Art. Ok. Allora, prima di tutto vi faccio notare che hanno iniziato a mettere l'imbottitura come su BTF e anche nelle parti posteriori delle schede madri normali, molto interessante, particolare forse di far risparmiare linea d'assemblaggio. Cosa abbiamo? Vabbè, DDR5, supporto ai 9000 nativo, ma ovviamente anche ai 7000, l'estetica rimane più o meno la stessa, le nuove quick release che però sono sul lato destro a differenza di MSI, come potete vedere fai così, stacchi e hai accesso all'SSD. Molto bello, soprattutto, cavolo, che gran blocco di alluminio. Chipset, devo dire, l'estetica forse anche migliorata. Molto carino questo effetto righello qui sotto per misurarvi le dita. Perfetto, il mio dito è lungo così. Per il resto, molto carino. Peccato che gli altri SSD non abbiano la quick release perché sarebbe così comodo. Laterale qui con un po' di porte inclinate e paniera da renderlo più semplice. Ma la parte veramente interessante, secondo me, è quella dell'input-output perché, diciamocelo chiaramente, queste schede di AMD hanno una roba assurda. Cioè, mi piange il cuore che siano sulla generazione 9000 perché, oggettivamente, come processori tolto per la produttività, sono molto mediocri. Però, devo essere onesto, gran lavoro sulle schede madri. È un peccato che siano abbinate a una generazione così scarsa, però che i 9000 X3D rialzino tutto. Allora, questa è più pensata per i professionisti, quindi doppia porta per quanto riguarda il video, un clear sia mosso vecchia scuola, però senza il bottoncino come l'abbiamo visto sull'MSI. Tre porte USB-C anziché quattro come abbiamo visto sull'MSI, ma qua è una 20Gbps più due da 40. Otto porte per quanto riguarda le USB, una 10GB nativa assieme a una 2.5 e poi connettori per il Wi-Fi 7 e, infine, la tripla dell'audio. Allora, devo essere onesto, è leggermente sotto alla Carbon che abbiamo visto qualche giorno fa, nonostante i costi dovrebbero essere più o meno simili la categoria di peso, sia la stessa, cioè X8 e X70. Però questa è una 10GB, che tra poco andiamo anche a testare, perché ci dovrebbe permettere più che altro di evitare di dover mettere l'adattatore che io utilizzo appunto per sfruttare questa velocità, visto che in studio ho 10GB in down. Soprattutto con i server è molto utile. Allora, per quanto riguarda gli accessori, vabbè, tolte le cose canoniche, poi il connettore mono per quanto riguarda la parte delle connessioni frottali del case, qualcosina, non l'ho mai visto una scheda madre includere una DisplayPort. Un evento epocale, ma poi quanto piccola. Oh mio Dio, c'è davvero un righello ProArt per fare le migliori misurazioni, ma poi bello, il design è veramente bello. Ok, andiamo a fare il travaso. Come lo faremo? Allora, per fare un travaso di componenti, secondo me la cosa più semplice è smontare quella scheda madre e montare questa, semplicemente facendo uno swap, e lasciare lì in posizione tutto quanto e portare tutte le componenti che sono su quella scheda madre, tranne ovviamente il processore, direttamente qua. Dovrebbe essere tutto ok. In questa maniera non dobbiamo stare a rifare cable management e cose varie. Io adoro questo case perché è facilissimo da smontare tutto quanto a leve. Così e abbiamo tolto uno, così e abbiamo tolto due. Avrei probabilmente commesso un omicidio se avessi staccato la scheda madre senza ricordarmi che ha l'antenna del wifi connessa. Ok, vedo che la situazione è in realtà abbastanza tranquilla, avevo già rubato le RAM, dobbiamo soltanto staccare la scheda video, semplicemente dealimentarla così e poi toglierla effettivamente. Ha questo piccolo blocco manuale qui dietro che effettivamente questo case garantisce di poter fare quasi tutto senza dover utilizzare un cacciavite se non per le classiche viti della scheda madre. Però per il resto è tutto molto 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 comodo. Cioè, vedi, fai così e la scheda madre è libera. Vabbè, devo sbloccarla però. C'è il tastino qui e via. Super super comoda e pronta la nostra porrarte. Dopodiché disconnettiamo questi, questi qua, questi qua, questi qua e questo qua che è nascosto. Ah già, che questo qui ha pure il doppio e questo qui che è scomodissimo. Quando vi dico di montare prima i dissipatori a liquido è perché poi queste cose le dovreste fare a mano, difficilmente. Però, allora, qua in realtà c'è molto spazio. Però in altri case è veramente una cosa piccolissima. Scusate, nella media assolutamente accettabile e con un ottimo carattere. Allora, in realtà noi possiamo girare questo e far scivolare la nostra coperturina in maniera da poter togliere questo. Ok, perfetto. Ma più che altro voglio anche smontarla perché così le mettiamo a confronto e vediamo un po' di differenze tra due gen diverse. Anche se questa non è un X870 e quindi non è proprio un paragone adeguato, effettivamente è bello vedere un pochettino come si muovono le nuove generazioni. Quanto magnetico sto! Xiaomi, ma cosa ci hai messo dentro sti cosi? Ma no, è magneticissimo! Quindi togliamo le viti da questo, smontiamo il dissipatore e poi la estraiamo. Allora, queste due sono le due schede madri una di fianco all'altro. Questa è la Z790 e questa è la X870E. Allora, devo dire, una cosa che mi lascia un pochettino interdetto è il fatto che per il modello di Intel rappresenta una 8 pin e una 4, quindi insomma buona potenza ma non è un'assurda. Qua invece ci sono due 8 pin, però questa regge processori da 200 watt, mentre questa regge processori fino a 300, 341 watt con il 13900K. Quindi particolare che questa sia quella con l'alimentazione più grossa, però ci sta. Oltretutto hanno cambiato anche la porta, vedete queste qui sono entrambe della ProCool in metallo così, dissipatore, è più carino esteticamente, più in linea con le parti di ProArt. Però devo dire che l'estetica della X870, a mio dire, è più bella. Soprattutto in questa parte inferiore del chipset dove ha recuperato proprio punti, anche se questa qui rimane più solenne con delle linee tutte uguali tra gli SSD, questa parte è decisamente, non lo so, più carina. E poi ovviamente ha anche questa funzione, più quella lì di rimozione della scheda video che vi ho fatto vedere al Computex. Allora c'è da dire che questa Z790 è un secondo refresh, quindi di per sé già si allineava quelle che potevano essere le caratteristiche di una X870. Potete vedere che c'è la doppia Ethernet 10 e 2.5, però il Wi-Fi rimane 6e, non 7e, quindi è un po' meno future proof. Altra zona per quanto riguarda il Clear CMOS è un po' meno porta in generale, tra cui una Type-C in meno. Però la zona dell'audio è quella lì completa delle generazioni precedenti. Più perde una porta, non c'è più la doppia DisplayPort, ma soltanto un HDMI e una DisplayPort. Diciamo che rispetto alla Carbon che abbiamo visto nel video di MSI, secondo me è un upgrade meno sensazionale, ecco. Altra cosa carina che hanno introdotto, praticamente c'è lo sgancio facile della scheda madre. Anziché avere un pulsantino qui nella zona laterale, semplicemente se tiri da sinistra non si stacca, anche facendo forza, ma se tiri da destra si stacca, senza necessità di parti meccaniche, che erano state accusate di essere un po' deboli nelle generazioni precedenti. Carino. Altra cosa importante secondo me da dire però, questo quick release di Asus è fatto meglio di quello di MSI, perché rimetterlo in posizione dopo è una scemenza. È veramente semplice rispetto a quello della Carbon, che invece richiede un pizzichino più di attenzione. Qui letteralmente vai e chiudi. Figo. Adesso finiamo la scheda madre e poi la inseriamo nel case. Quindi, qua abbiamo la nostra parte del processore, questo l'ho messo lì così, cos'ha? Su appa, poi hai le RAM, sempre slot 2 e 4, prendi questa, la metti così. Poi abbiamo l'SSD, questo insomma ha preso un po' di botte ma ancora funziona, qui sotto, qui così, e poi lo blocchiamo. E abbiamo un nuovo tipo di clip di blocco, guardate questo qui anziché girare semplicemente si preme via. L'unica cosa brutta è che ho premuto sul dito su una memoria, non è proprio il massimo. Ma va bene. Dopodiché, prendiamo di nuovo la copertura, la mettiamo al suo interno qui e spingendola dovrebbe entrare. Allora, sto avendo delle difficoltà tecniche, nel senso che ho inserito correttamente l'SSD, come potete vedere, è spinto fino in fondo, ha fatto clac. Poi andando a inserire effettivamente questa parte qua e spingendolo, non trova blocco. Eppure la posizione è giusta. Lui qui è fino in fondo, è a posto. Però effettivamente parlando, what? Non capisco. Allora, se lo faccio senza l'SSD inserito, va effettivamente. Se però prendo, stacco e riattacco il nostro bene amato SSD, non sembra collaborare. Provo con quest'altro SSD che è meno spesso, sotto non ha componenti. Che poi comunque ci pensano che ci saranno dei componenti perché ti mettono anche i pal termici sotto. Lo blocco, così, molto più semplice. E si blocca. Ok, quindi, se avete SSD che hanno da entrambi i lati gli stick, non funziona. Asus, questa è importante come cosa. Nel senso che questo qui dovrebbe... Questo è un SSD normalissimo. Questo è un Kingston KC 2005. È un modello comunissimo. Dovrebbe entrare. Ovviamente posso invertirle e metterle qui sotto, ma questa porta è PCI 5.0. Dovrei poterla utilizzare senza problemi. Questo è un difetto molto, molto grosso. Bellissima mossa, però, dove funziona che ci siano questi nuovi aggancetti così, molto più comodi e rapidi del dover girare il cosino. Oltretutto mi sembrano anche più resistenti. Figo. E questo è il blocco titanico che, in realtà non così titanico, che andrà a dissipare i nostri SSD. Dopodiché togliamo il pad termico. Ok. Adesso montiamo i supportini per il dissipatore. Quindi questo qua va così. Dopodiché finiamo di montare il nostro dissipatore di nuovo, ma nella versione AM5. Semplicemente mettiamo delle capoccette così e poi ci andrà sopra, appunto, l'abitante, la cosina da chiudere. Ok. E adesso andiamo a metterlo all'interno del case. Perfetto. Quindi andiamo ad applicare la nostra tipica pallina sarda di pasta termica, perché è tipica, quindi è sarda nel mio caso. Ok, perfetto. Allora, abbiamo così. Va benissimo. E andiamo a rimettere il dissipatore. E a riconnettere tutto. Sono 20.000 porte. Ok, andiamo a montare il dissipatore dentro al case. Allora, questa è la situazione. Abbiamo questo costrutto di metallo devastante per rendere compatibile l'attacco di Intel con, appunto, AM5. E andiamo così a bloccarlo. E semplicemente lo rimontiamo. Quindi poi, vabbè, andiamo a reinserire tutte quante le porte di alimentazione, CPU. Poi qui abbiamo un po' di ventole, di cose varie che vandranno lì. E poi semplicemente quelle della scheda madre e tutto quanto qui sotto. Più la scheda video. Allora, non so se vedete lì sotto, ma come potete vedere l'attacco per la USB-C su questa Carbon di MSI passa in orizzontale. Invece su questa X870 di ProArt effettivamente hanno deciso di lasciarla in verticale. Che devo dire è un peccato perché c'è proprio la paratia qui per farlo passare. Insomma, si poteva fare meglio. Reinseriamo la scheda video qua e le diamo anche questo supportino qui. Così. Perfetta. Adesso facciamo il primo avvio. Pulisco da 40 tipi di pasta termica diversa che ci sono su queste componenti per colpa mia. E poi facciamo i test. Ok, metto l'alimentazione qui dietro. Accendo. E andiamo. Cioè, adesso si è acceso tutto quanto. Questa è la quantità di aria che muove sto case. Porca! Ma sposta le cose! Cioè, guarda, la spinge! Ha un flusso d'aria disumano sto case, lo adoro ogni volta. Ok, testiamo, puliamo soprattutto e vediamo un pochettino. Madonna, è talmente silenzioso che me lo posso mettere qua davanti e non si sente in video. Questa cosa secondo me è incredibile. Quindi, ho finito di fare un pochettino di test, pulito, cose così. E devo dire, la cosa che si riconferma veramente bellissima di questo case è che è un tributo all'assenza di RGB. Che è ironico, venendo da un brand che fa effettivamente nelle sue line-up principalmente Tuff, Prime e soprattutto Rogue, Matrix e Co. Degli RGB, il loro cavallo di battaglia, dell'estetica. Invece, guardate, sopro art. Io devo essere onesto, non c'è un altro singolo brand che faccia un prodotto completo come questo. Non c'è più che altro un'estetica così carina. E io penso che me lo possano confermare molti professionisti. Per quanto questo case sia oggettivamente titanico, secondo me una versione mid-tower sarebbe ancora ancora fattibile. Ma più che altro la dimensione è data dalle ventole frontali. Effettivamente parlando per il resto è veramente super interessante. Se volete vedere la recensione completa, comunque ve l'ho fatta nel video dedicato a questa build che vi lascio linkato in descrizione. Ad ogni modo, oltre a questo, per quanto riguarda la nuova scheda madre. Ovviamente compatibilità diretta a Ryzen 9000, come vi ho già detto, ha un totale di feature sulla parte del lab piuttosto interessante. Ma più che altro questo qui voleva essere uno swap perché, come vi avevo detto nel video, effettivamente volevo passare da Intel all'AMD da un bel po' di tempo e questa qui era l'occasione giusta. Però questo case montava Intel per via del fatto che non ci fossero ancora appunto le X870 aggiornate con la 10GB. Parlando della scheda madre appunto in questo contesto, ho fatto qualche test con la 10GB sia in locale che su rete. Allora, la velocità è perfettamente in linea con quella che può essere una scheda di rete aggiuntiva che potete montare, come appunto quelle di Asus o le classiche Intel X540 che monto sulle mie build. Diciamo che è comodo avere tutto quanto integrato direttamente sulla scheda madre. C'è una dispersione abbastanza importante, nel senso che il massimo raggiunto in UCLA è di circa 8000 MB. Mentre ci sono stati alcuni risultati che hanno superato i 9000, uno ha anche superato, ha raggiunto più o meno i 10.000 Mbps per quanto riguarda la fase locale, con anche l'upload che può superare i 2500 giustamente limitati dalla connessione direttamente in locale. Quindi diciamo che di per sé ha le possibilità, ma dipende un pochettino dalla situazione. La maggior parte dei risultati, se devo essere onesto, in media si avvicinano più verso gli 8000-8500. Comunque è una limitazione infrastrutturale che potreste avere anche sulle vostre configurazioni, con magari anche soltanto un giga. È molto normale perdere connessione, perché ci sono più punti dell'infrastruttura che possono collaborare negativamente a questa cosa. Anche banalmente solo far passare il cavo nel muro può togliervi qualche mega quella. Wi-Fi 7. Purtroppo questa non è una caratteristica che adesso sono in grado di testare, perché il mio router è un Wi-Fi 6E, ma in caso in futuro se dovessi fare un aggiornamento ovviamente vi porto un video dedicato a questo tipo di connettività, ma per adesso diciamo che è una cosa che riguarda veramente l'1% dell'1%. Diciamo che il passaggio da 13900K a 9950X più che altro mi dà un beneficio effettivo nel poter rallentare i giri delle ventole, anche magari arrivando a delle temperature un pochettino più alte, lasciando che magari si avvicinino verso gli 85-90 gradi, però molto controllate e con una silenziosità molto maggiore. Oltre a questo ovviamente i consumi sono ridotti, il 9950X in caso di AVX2, per dirvi una situazione proprio di tortura, che in realtà neanche sfrutto, consuma soltanto 188 Watt, mentre il 13900K era capace di avvicinarsi ai 280. Sono 100 Watt in meno di consumo su una build che effettivamente fa largo uso della CPU, e già questo è un upgrade interessante. Ovviamente serve meglio partire da una base in cui questo processore effettivamente non sia un upgrade, ma una prima scelta. Risparmiereste molti soldi, sono oltre 500 euro di scheda madre. Per quanto riguarda le prestazioni, la generazione 9000, ve l'ho già mostrata nel video dedicato al 9950X, qualora non l'abbiate visto vi invito anche a recuperarlo, ma in generale, come potete vedere da questi grafici, siamo di fronte a un processore che solo su quell'aspetto ha qualcosa da dire a Intel in maniera continuativa, più che altro diciamo che qui l'upgrade non voleva essere tanto per aumentare le prestazioni del processore, che comunque in quello che faccio sono abbastanza marginali, fino a un certo punto comunque, ma più che altro per ridurre i consumi e passare ad AMD in maniera da poi poter fare un ultimo canto del cigno con la generazione, eventualmente 10.000. In realtà il 9950X, in questo caso qui è solo per showcase, molto probabilmente lo sostituirò con un processore un pizzico meno potente perché non me ne faccio niente di 16 core. Per il momento ho montato questo perché è l'unico 9000 di cui abbia disponibilità da montare in giro, però effettivamente a tutti gli effetti la generazione consuma un po' di più, potrei anche tornare banalmente sui 7000, le temperature sono comunque buone, ci sono varie possibilità diciamo, ho parecchi processori in questo studio che potrebbero alloccarsi qui. Per quanto riguarda Intel l'avrei mantenuto se non fosse che la generazione appunto sia arrivata al suo limite effettivo per quanto riguarda il chipset ma soprattutto con tutte le controversie recenti, volevo distaccarmi un pochettino dalle possibilità magari di crash che potrebbero avvenire con un 13000, per quanto comunque in ambito di produttività io non abbia riscontrato mai niente utilizzando quotidianamente anche un 13900K, ovviamente dipende da caso a caso, ma non hai bisogno di toccare il fornello per sapere che scotta, ecco, diciamo che è una logica generale. Finalmente quindi comunque ho la mia build. Finale per quanto riguarda l'editing, video editing e cose così, è veramente qualcosa di molto interessante sotto tanti punti di vista, l'estetica minimale secondo me è proprio molto bella e vorrei che più brand facessero case del genere. Diciamo che vorrei che questo tipo di case trovasse una maggiore viabilità sul mercato, però capisco che al contempo per molti branding sia difficile mantenere una costante su questa tipologia di prodotti, perché giustamente non piacciono a una fetta di popolazione un po' più piccola magari che vuole di RGB. Però per i professionisti o persone che appunto non amino quel tipo di estetica aggressiva, secondo me è molto interessante, qua ci avrei inserito più elementi in legno come le altre versioni, ma anche quello ci sta. Diciamo che se uscisse una versione bianca, sapete che non mi dispiacerebbe, sarebbe interessante sicuramente, però poi dovrebbero rifare tutto il branding di ProArt anche in bianco, forse non sarebbe profittevole per Asus. Una versione ITX di ProArt o una micro ATX più piccola la vedrei molto molto interessante in questo mercato, sarei curioso di vedere cosa possano sfornare. Ad ogni modo per questo video è tutto, voi state su Bordeon Tech, like, commenti e iscrizioni mi aiutano sempre a supportare questo canale, gratuitamente ovviamente, e vi lascio tutti quanti i link di questa build e di altre cose giù. Nella descrizione di questo video assieme a altri video che vi invito a vedere, voi state su Bordeon Tech, Sausa!